Abbiamo una partecipazione straordinaria, liberiamo per piacere il palcoscenico perché con noi abbiamo anche Nilla Pizzi! Nilla Pizzi, è una sorpresa, è vero che non ve l'aspettavate? No, ne hanno parlato tutti i giornali. È chiaro che dovesse essere qui con noi perché è l'anno zero, l'anno zero del paese. L'anno zero comincia oggi. Comincia oggi con questa trentunesima edizione. Senti, scusa io ti do del tuo perché... Sì, dammi del tuo, mi sa perché devi dare del tuo a tutti e non a me. Perché? A dire la verità, ci siamo conosciuti due settimane fa, ho dato del lei per due settimane e poi prima di iniziare la trasmissione ho detto guarda io non ce la faccio, ormai siamo talmente in confidenza, diamoci del tuo e non se ne parli più. Bella sta rima. Certo, bellissima. Senti, cosa ci puoi raccontare, non come fatto nostalgico ma come caratteristica della prima edizione? Che cosa succedeva in questo momento nella prima edizione? Nella prima edizione c'erano tutte le persone a tavola sedute che mangiavano, bevevano champagne, c'era meno confusione, era una cosa molto insordina. Questa sera qui sembriamo a Las Vegas, veramente una cosa eccezionale, un entusiasmo enorme, veramente. Questo festival di Sanremo che non smette mai di ingrandirsi, di essere visto, di essere così ben voluto da tutti in fondo. Senti, c'è anche una sorpresa, è chiaro, hanno saputo della tua partecipazione, sono arrivati un sacco di fiori. Sì, ma che belli, ma che belli, ma ciao, 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 sì, però dopo, dopo come ci stanno? Sì, dove è andato il suo Mocchi? Mocchi, Mocchi è scomparso, perché intanto sta tenendo i cantanti che stanno premendo, hanno voglia, hanno tantissima voglia di cantare, è logico, perché questa è la loro gran festa, come del resto... No, anche, sì, capisco perché è un'emozione grandissima, più si aspetta, più aumenta la tensione nervosa. Allora, sai cosa facciamo? Cosa facciamo? Tu sei la first lady, per cui a te il compito di aprire, no? Allora... Anche la gara, questi 20 motivi, che sono, beh, 12 del gruppo B e poi gli 8, selezionati nelle prime due serate. Vuoi aprire? C'è il primo gruppo, no? Dunque, i primi sono i collage. Ecco, i collage che facciamo entrare subito, così si piazzano, collage, così piazzano i loro strumenti e si preparano per il primo brano della serata finale. E cantano, cantano i ragazzi che si amano. Una bella canzone d'amore, non succedeva mai che partecipasse a Sanremo una canzone d'amore, no? Ma no, guarda, non potrebbe mancare, direi, una canzone d'amore. Dunque, poi c'è Carmene Thompson, follow me, seguimi. E questa è la prima grossa novità della 31esima edizione, infatti le canzoni sono anche in inglese, però gli autori sono italiani, come nel caso di Polonia. Come scambio culturale con l'estero, è logico. Questo gemellaggio, no? Con l'estero. Poi c'è Marinella, ma chi te lo fa fare? Poi c'è Dario Baldan Bembo, che cosa fai stasera? Apriamo quindi la serata finale con i collage. Ragazza che Non ridi mai Ma che cos'hai Perché da sola sempre bene stai Le unghie tu Non hai più ormai Scommetto che Con un ragazzo non sei stata mai Tutti i ragazzi che si amano In tutti i posti si baciano Voglio che i dolci soldi non un po' Tutti i ragazzi che si amano Tutte le notti si incontrano Da dove i sogni non vogliono mai I ragazzi che si amano I ragazzi che si amano Maglietta e via Maglietta e via Il tipo giusto che si amano Il tipo giusto che nei sogni tuoi Voglio che i dolci soldi non un po' Tutti i ragazzi che si amano Tutti i ragazzi che si amano Tutte le notti si sfiorano Grazie a tutti Autore dei sorrisi